Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi vediamo come comporre i colori marroni, le varie gradazioni e il colore tortora. Iniziamo con tre colori primari che sono il rosso magenta, il ciano per il blu e il giallo primario. Due colori neutri sono il bianco di titanio e il nero d'avorio. In sostituzione dei primari potete utilizzare al posto del rosso magenta il rosso di camion o chiaro o medio o scuro, al posto del ciano il blu brillante, al posto del giallo primario potete utilizzare giallo di camion o chiaro o medio oscuro. Detto ciò iniziamo con le nostre mescolanze e vedrete che via via andremo, partiremo dal terra d'ombra, avremo il terra d'ombra bruciata, ocra rossa, terra di siena e via via. Ci fermeremo diciamo a un certo punto, vi lascio comunque qui sopra sulle informazioni una tabella in timelapse che ho fatto a tempo fa dove vedete proprio tantissime altre gradazioni che voi potete ottenere con la mescolanza di questi tre primari. Per quanto riguarda il discorso relativo a questi filmati ho intenzione prossimamente di proseguire avremo a fare i verdi. È molto importante imparare a miscelare i colori perché intanto soprattutto per i principianti si evita di sovraccaricarsi a livello anche economico di tutta una serie di colori che sono indispensabili per dipingere. Se voi siete in grado di creare altri colori benvengano e oltretutto vi saranno molto utili quando andrete a dipingere perché riuscirete a creare il colore che state immaginando. Per quanto riguarda poi il proseguo di questo filmato vi mostrerò come ottenere il color totora, fermo restando, che io mi sono fermata al colore, alla tonalità di tordora che piace a me, potete proseguire aggiungendo bianco, aggiungendo volendo una punta di blu oltre il bianco per farlo virare diciamo verso il colore freddo, aggiungendo una punta di rosso per farlo virare verso un colore più caldo. Questa è una questione di gusti. 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 di gusti al mio canale, mettete i like se vi piacciono e vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti.